Il 4 novembre, su tutto il territorio nazionale, hanno avuto luogo le consuete celebrazioni in occasione della festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Un momento unico che avvicina le forze armate alla popolazione, la quale potrà constatare da vicino l'altissimo grado di professionalità ed efficienza raggiunto, grazie all'apertura delle caserme in tutta Italia. La città di Pordenone ha commemorato i caduti di tutte le guerre e dopo l'alta bandiera ha ricordato riconoscente coloro che hanno contribuito all'unità del paese. Erano presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, i picchetti del comando Ariete, le diverse forze di polizia, alcune scolaresche, il prefetto di Pordenone e il sindaco Claudio Pedrotti. Oggi la nostra presenza qui sta da un lato proprio a testimoniare che l'identità del nostro paese alla fine è stato il risultato di questo evento bellico terribile della prima guerra mondiale. Vi ricordo 690.000 morti solo nelle file italiane, pensate in Europa che cosa è stato questo conflitto. Una volta terminato questo conflitto la nostra identità nazionale si è compiuta ed è l'identità nazionale che oggi alla fine noi mostriamo al mondo. La nostra presenza qui ha quindi una duplice valenza, ricordare il motivo di questa festa oggi del 4 novembre ma anche ricordare proprio nell'ambito di 150 anni della unità d'Italia che la identità nazionale è qualcosa che deve essere difeso, che deve essere mostrato, che deve essere costantemente ricordato e questo deve essere il modo migliore per ricordare anche le nostre forze armate. Noi siamo vicini della Riete in particolare che è il cittadino onorario di Pordenone proprio a testimonianza di questa fusione tra identità e forze armate che rappresentano questa identità.